E' terminata da poco la partita aerobica contro Faife Bellusco, è qua con noi Borella Giuseppe mentre ci racconta un po' come è andata la partita e vediamo anche i suoi gol. Ciao a tutti, è andata bene, dopo anche una partita di Coppa Italia in settimana abbiamo vinto anche lì, non possiamo lamentarci, siamo partiti un po' male, però piano piano siamo riusciti a uscirne e a vincere 4-1 e quindi è andata bene. Per quest'anno l'orobica che ispirazioni ha per questo campionato? Come al solito tentiamo di arrivare ai playoff e se poi ci va bene saliremo, adesso pensiamo a lavorare bene e cercare di migliorare un po' il nostro gioco perché ogni tanto abbiamo delle pecche e quindi bisogna per forza migliorare insomma. Va bene, ringraziamo il bomber Borella e lui diamo appuntamento alle prossime partite dell'orobica. Ciao a tutti!